Musica Una coppia di angeli del Cinquecento in legno dorato è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Perugia. L'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni erano pronti ad essere venduti all'estero. Il Comune di Perugia e l'assessorato alla cultura hanno celebrato il Dante Dì dello scorso 25 marzo con una maratona via web di pillole dantesche, mostri, concerti e conferenze per tutta la giornata. Compie 25 anni il gruppo teatrale Ogubino Carlo Nardelli, ricordi, aneddoti, storie con alcuni dei protagonisti che ne fanno parte e l'hanno visto crescere. Ha preso il via l'avventura della web radio della Scuola Media Mastro Giorgio Nelli di Guppio. I ragazzi si raccontano sogni, aspettative e fragilità in un progetto di didattica a distanza. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento della Tg Cultura. Dunque la cronaca in apertura perché una coppia di angeli del Cinquecento, il legno dorato e policromo, realizzata da un artista toscano, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Perugia. L'attività di indagine è partita e coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni e ha portato al recupero di due angeli che erano pronti per volare, è il caso di dirlo, all'essero. Sono stati bloccati al deposito di spedizioni di Marghera in provincia di Venezia. Vediamo. Una coppia di angeli del Cinquecento, il legno dorato e policromo, realizzata da un artista toscano, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Perugia. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, ha portato al recupero delle due sculture presso un deposito di spedizioni di Marghera in provincia di Venezia, poco prima che fossero trasportate all'estero per essere vendute all'asta. I carabinieri della tutela del patrimonio sono stati coinvolti grazie alla segnalazione dell'ufficio esportazione della soprintendenza archeologica Belle Arti e Paisaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, interpellato per valutare la richiesta di rilascio della licenza di esportazione avanzata da una ditta veneta specializzata nel trasporto e nella spedizione di opere d'arte. I beni erano in possesso di un antiquario orvietano, indicato al momento come possessore in buona fede delle opere perché ignaro della loro provenienza illecita. I carabinieri hanno quindi richiesto un provvedimento urgente di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria ternana che ha impedito la probabile dispersione delle due sculture attraverso il loro trasferimento all'estero. Quanto alle opere recuperate si tratta di due sculture del Cinquecento, risultate parte di vari beni di arte sacra rubati nel 2001 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Mozambano in provincia di Mantua. Tutta l'Italia ha celebrato lo scorso 25 marzo il Dante Dì, la giornata in omaggio al sommo poeta Dante Alighieri a 700 anni dalla morte, istituita lo scorso anno dal governo, nata dalla necessità e dalla volontà di rendere omaggio al padre della lingua italiana. Numerosissime le iniziative in tutta Italia e in Umbria. A Perugia il Comune e l'assessorato alla cultura hanno promosso una vera e propria maratona di appuntamenti online per celebrare il sommo poeta. Vediamo. La giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Dante Dì, celebrato lo scorso 25 marzo, è stato promosso in tutta l'Umbria anche dal Comune di Perugia e dall'assessorato alla cultura con il patrocinio della società Dante Alighieri e da Cari Perugia Arte attraverso una maratona di pillole dantesche in un viaggio virtuale alla scoperta delle innumerevoli sfaccettature della vita e della poetica di Dante Alighieri con concerti, conferenze e mostre. L'assessore Leonardo Varasano ha dato il via all'evento alle ore 13.30 con la presentazione del programma della giornata e a seguire è stato illustrato l'omaggio a Dante realizzato lo scorso dicembre presso la terrazza di Palazzo Baldeschi. Alle ore 14 le letture di Giuseppe Moscati e Francesco Bolo Rossini, accompagnate dalle musiche originali di Rachele Spingola, delle lettere fra Aldo Capitini e Gianfranco Contini, due personalità importanti nell'Italia del Novecento accomunate da una profonda e lunga amicizia, testimoniata dalle loro corrispondenze. Subito dopo la pillola concerto conferenza del maestro Stefano Ragni, incentrato sull'importanza della musica nella poetica e nella cosmologia antropologica dell'autore della Divina Commedia, seguito da Silvio Mignano, ambasciatore d'Italia e Svizzera, con le presentazioni di una linea di lettura dell'intimo di Dante fra vita nuova, rime petrose, convivio e commedia. Alle ore 17 Dante Poppe Social, classico attivo, la conferenza dello scrittore Trifone Gargano, incentrata su Dante come un attentico classico che non è mai massa ma lievito. Dante, infatti, è presenza attiva tra noi. Egli ancora oggi è quella poca favilla che gran fiamma seconda a dispetto degli secoli trascorsi. È poi nuovamente intervenuto l'assessore alla cultura, Leonardo Varasano, che ha illustrato insieme a referenti e curatori le mostre perugine dedicate al sumo e poeta. Di poi gli appuntamenti conclusivi della maratona. Massimiliano Marianelli, professore di storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Perugia, ha parlato dell'umanesimo di Dante, fondato sui polastri della cultura greca e latina, e vivificato dalla rivoluzione cristiana. E infine le due conferenze del critico cinematografico Fabio Melelli, in collaborazione con il Circolo dei lettori di Perugia, dal titolo Cine Dante, Dante nella cultura popolare e nel cinema. Il primo intervento, Fellini e Dante, ha analizzato i molteplici legami tra il maestro riminese e il sommo poeta. Nel secondo, la divina commedia nell'opera di Pierpaolo Pasolini, Melelli ha parlato della riscrittura personalissima che Pasolini ha dedicato all'inferno dantesco, lucida testimonianza di una straordinaria poetica di impegno civile. Torniamo a Gubbio, compie 25 anni il gruppo teatrale Carlo Nardelli, ricordi, aneddoti, storie con alcuni dei protagonisti che ne fanno parte e l'hanno visto crescere nel tempo. È difficile riassumere i 25 anni di attività che ha segnato il gruppo teatrale Carlo Nardelli a Gubbio. È difficile racchiudere tutto ciò che di buono è nato da quella che oggi si definisce una vera e propria famiglia. Dal primo spettacolo del lontano 1996, Forza Venite Gente, di gente se ne è vista davvero tanta, sul palco, dietro ad esso ed in platea, gente che ha coltivato relazioni, idee, progetti, emozioni, gesti di solidarietà, sogni. Sì, 25 anni, il gruppo teatrale nasce nel 1996, nasce in un'occasione abbastanza particolare perché in quel momento la pastorale giovanile stava lavorando nella ristrutturazione di una casa che sarebbe diventata la casa di accoglienza poi della diocese, era la casa Shekina Branca, e servivano i soldi in maniera molto semplice. E proprio in quel momento, con quel gruppo dei ragazzi che stava lavorando alla ristrutturazione di questa casa, ci è venuto in mente di poter realizzare uno spettacolo. Comunque più che uno spettacolo è una commedia musicale, è il genere che noi facciamo ormai da 25 anni, proprio perché è il tipo di spettacolo che comunque coinvolge e riesce a coinvolgere tanti ragazzi sotto tanti aspetti e tante forme. In questa evoluzione, comunque il gruppo teatrale man mano ha acquisito sempre più la sua identità, tanto che una decina di anni fa è diventato proprio il gruppo teatrale della diocese di Gubbio, ma intitolato a Carlo Nardelli. È un nostro carissimo collaboratore che proprio in questi giorni ricordiamo la sua salita al cielo. È una parte questa fondamentale della mia vita, forse è una delle più fondamentali della mia vita, che come diceva anche Don Mirko, aiuta nella crescita. Portare in scena uno spettacolo significa mettersi in gioco in tutto e per tutto, con tutte le capacità che uno ha. Non solo quelle artistiche di recitare, cantare o ballare, ma anche quelle di ideare uno spettacolo, di mettere il proprio contributo a servizio delle scenografie, a servizio di un'idea, a servizio di qualcosa. E soprattutto a servizio dello stare insieme, perché nasce per questo fondamentalmente. Per me è stato proprio il gruppo teatrale Carlo Nardelli, per me è una famiglia, tant'è vero che la mia stessa famiglia è nata all'interno di questo gruppo. Io e mia moglie Sara ci siamo conosciuti nel gruppo teatrale, ci siamo fidanzati nel gruppo teatrale, abbiamo continuato a fare teatro da fidanzati, ci siamo sposati, abbiamo due bimbe, che spero che anche loro intraprenderanno questa avventura. Quella del teatro è una delle cose più belle della mia vita, posso dirlo proprio con sincerità, perché stare su quel palco, creare lo spettacolo insieme a tutti, e non solo lo spettacolo, perché poi c'è tutto il lavoro dietro delle scenografie, i costumi, è proprio tutto una macchina che si muove insieme e crea veramente qualcosa di bello e le gioie, le soddisfazioni che si ricevono dal mettere in scena uno spettacolo che si è creato con le proprie mani in tutto e per tutto sono veramente grandi e belle. Abbiamo lanciato un video celebrativo di questi 25 anni e quindi da adesso in poi comunque continueremo con delle iniziative sempre virtuali per festeggiare questi 25 anni, sempre postando foto, video, aneddoti, ricordi che appartengono a questa lunga storia, legati sempre dall'hashtag che spettacolo, quindi invitiamo anche chi ha partecipato ai vari spettacoli dal 1996 ad oggi a partecipare e di persone ne sono passate tantissime perché consideriamo ogni spettacolo varia dalle 80 alle 60, in alcuni anni anche a 100 persone, quindi di gente ne è passata tantissima. Il gruppo è nato 25 anni fa, ha camminato, è cambiato, è cresciuto, ecco con la speranza che al più presto si possa tornare a realizzare qualcosa di bello e di grande come nei nostri progetti e soprattutto nei nostri sogni. Partire dalla crisi dell'uomo per un viaggio straordinario all'interno di noi stessi, il cinema quale linguaggio capace di illuminare le coscienze. A Gubbio la cooperativa El Sicomoro promuove la serie di incontri per il 7, 14 e 21 aprile dal titolo Are, ere, ire, girare, vedere, uscire, incontri in modalità a distanza per un viaggio nel mondo del cinema. L'iniziativa è realizzata grazie al progetto Fili finanziato dalla regione. Gli incontri si svolgeranno con la partecipazione di Giuseppe Carbone del Cinema Astra e saranno gratuiti. L'iscrizione però è obbligatoria. Mandare un'email a infochiocciola il sicomorogubbio.it chiudiamo con l'avventura di una web radio che è nata venerdì scorso alla scuola media Mastro Giorgio Nelli di Gubbio un modo per i ragazzi di raccontare le loro storie, i loro sogni, le loro emozioni. Vediamo. Si va on air da venerdì 26 marzo ore 18 su piattaforma web per raccontare la scuola, la città, la famiglia, gli amici, l'attualità visti dagli occhi dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio Nelli di Gubbio e raccontati dalle loro voci sulla radio web Safe & Sound. Nasce a settembre 2020 un progetto didattico pensato per le classi seconde e terze, 600 il parterre di studenti ai quali è stato proposto, che consapevole della necessità di mantenere distanziamenti e didattica a distanza anche in questo anno scolastico ha chiamato studenti e professori ad ideare una radio di scuola interamente realizzata da casa grazie al supporto di incontri di redazione svolti su piattaforma Meet. Sei professori coinvolti Barbara Calzettoni, Donatella Carnevali, Elisa Benedetti, Jessica Bazzucchini, Giorgio Acciaio e Fausto Paffi. Gli alunni proprio si sono proposti, hanno proposto, noi abbiamo lasciato molto agli alunni, mano libera agli alunni. In insegnanti diciamo abbiamo ricoperto un po' la figura dei tutor, di coloro che partecipano e ascoltano, suggeriscono talvolta, ma soprattutto lasciano gli alunni liberi di autogestirsi. Una trentina i ragazzi coinvolti, divisi in tre comitati, quello di redazione che sceglie temi e scrive testi, quello tecnico che edita i file audio, quello degli speakers, che si coordinano con la redazione per poi dare voce ed interpretare il loro prodotto. Si parte venerdì alle 18 con un podcast sul tema dell'inquietudine. Abbiamo fatto all'inizio un meet e abbiamo proposto diversi temi e poi è venuto fuori appunto questo tema, l'inquietudine. Un po' strano, però anche bello, impegnativo e attuale, perché comunque stiamo vivendo un periodo inquieto, complicato. Il nostro lavoro innanzitutto parte dal fatto che noi del comitato tecnico partiamo dalla modifica dei file che ci vengono dati dalla commissione contenuti, dopo partiamo dalla registrazione e alla fine il montaggio finale. Il fatto che non ci abbiamo dovuto mettere la faccia probabilmente ci ha anche aiutato da un lato e poi ci ha aiutato anche ad aprirci meglio e a spiegare veramente quello che erano le emozioni appunto. E da un lato forse ci ha anche un po' fermato perché dovevamo mettere più emozioni su quello che dicevamo nel momento che lo dicevamo, non potendo usare veramente l'espressività. Un progetto didattico che va oltre la DAD non è infatti solo un modo concreto per superare la unidirezionalità spesso presente tra docente e studente, ma un sistema per consentire a ragazzi in età adolescenziale di esprimersi con maggiore libertà di quello che altri mezzi di comunicazione o social propongono. Dal punto di vista didattico ha proprio quella della relazione anche dei contenuti al di là dell'immagine innanzitutto. Il che non è poco perché comunque l'uso della parola è un uso che si raffina tanto più la usi senza altri scenari di riferimento. E poi probabilmente è anche una forma per abbattere alcune reticenze perché comunque parlare di se stessi senza metterci la faccia in questo caso è una forma di grande liberazione. È tutto, grazie per averci seguito. A voi una buona serata.